buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione e oggi parlerò risponderò ad una signora che mi ha parlato del figlio alcolizzato da molti anni che non vuole farsi aiutare aveva ascoltato ascoltato un mio video di tempo fa su ciò che dicevo sull'ipnosi vera e professionale sul mio metodo dcs di ipnosi vera e professionale con audio mp3 dcs che possono essere utilizzati anche per un tuo caro che magari si alcolizza o ha un problema e che non vuole il tuo aiuto attenzione c'è quella categoria di persone che piene di sensi di colpe quindi di autocastigo eccetera eccetera non vogliono essere aiutate bene se tuo figlio suo figlio è alcolizzato il suo caro non vuole avere l'aiuto di nessuno né di un esperto che lo possa aiutare ad eliminare l'alcol esiste l'auto ipnosi dcs vera e professionale a patto però signora che lei stia insieme a suo figlio al suo caro perché importante la presenza perché ti racconto tutto ciò perché a parte questa signora ha avuto parecchi casi di gente con delle dipendenze di droga di cannabis di alcol le quali avendo parlato con me non volevano essere aiutate non si è fatto nulla di fatto ok perché se tu poi non fai ciò che uno ti dice non ottieni nulla dopodiché come a los angeles anche in italia ci sono state delle mamme dei papà dei genitori che hanno seguito la lettera ciò che io gli ho suggerito gli ho consigliato e il loro caro ha cambiato direzione utilizzando soltanto audio mp3 dcs di auto ipnosi vera e professionale che sono fatti di parole semplici trasparenti pur con arte e pur con molta esperienza di più di 40 anni ok però che succede nel subcosciente nel pilota automatico dove esiste la soluzione ad ogni problema complesso compreso la dipendenza succede che le immagini negative che sono presenti nel tuo pilota automatico vengono rimpiazzate sostituite da immagini e parole positive come se tu cambiassi canale senza accorgertene inconsciamente per cui quando tu affronti una giornata inizia ad affrontarla pur essendo alcolizzato da molti anni oppure pur essendo drogato da molti anni in maniera diversa vedi l'albero la gente le persone la casa i familiari in maniera diversa quindi vuoi essere aiutato in quel momento ti senti calmo tranquillo con la mente lucida ok con la mente lucida dire ok voglio consapevolmente utilizzare l'ipnosi vera e professionale magari presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona oppure continuare con il metodo dcs di auto ipnosi dcs vera e professionale per arrivare al cento per cento a me dispiace quando una persona è alcolizzata non vuole l'aiuto di nessuno sbeffeggia ridicolizza prende in giro in zuppa il famoso biscotto nel latte convinto che sia il sottoscritto altri come lui a a dire oa farla pipì fuori dal vasetto e non pensa che invece non è lui a ragionare in questi termini ma il suo sistema nervoso eccitato dall'alcol oppure da una droga pesante o leggera che sia in base all'effetto che gli fa per cui se tu ti trovi in questa situazione scrivimi a ipnologi associati che oggi la libro è punto it e l'email della mia associazione ti risponderemo e ti aiuteremo e ti consiglieremo per il meglio però sappi che con il metodo dcs tu puoi aiutare il tuo caro che si alcolizza che si droga che aggressivo che non accetta niente nessuno se solo se farai ciò che ti dice di consiglia il sottoscritto che senza nulla togliere a nessuno poi per concludere conclusione delle conclusioni la persona alcolizzata che abita da sola che non ha possibilità di mettere in atto ciò che io consiglio purtroppo lì non e non vuole avere aiuto da parte di nessuno né da parte di alcolisti anonimi né da parte di terapeuti psicoterapeuti psicologi medici quant'altro oppure life coach mental coach eccetera eccetera bene lì non si può fare nulla e lì purtroppo si bisogna alzare le mani e dire ok a meno che uno dei suoi cari non riesce a portarselo a casa sua o ad andare ad abitare per un periodo con lui e seguendo le istruzioni dcs che io darò con l'ipnosi vera e professionale può aiutarlo veramente in maniera incredibile a migliorare il suo stato fisiologico psicologico e spirituale senza ma e senza se perché tante volte questi alcolizzati queste persone che stanno nell'alcol non si rendono conto che non sono loro pensano che sia normale spontaneo aggredire i cari la mamma il papà i fratelli che cercano di aiutarlo e la la compagna il compagno diventano e sono come delle serpi delle serpi vere e proprie perché ingannano tutto e tutti e mentono sapendo di mentire a tal punto è che la persona cara a chi gli sta attorno non sa più dove e quali presci prendere perché se tu ti trovi in questa situazione è un alcolizzato un alcolizzato a casa tua scrivimi e ti dirò come fare che non vuole l'aiuto attenzione perché chi vuole sedersi presso degli alcolisti anonimi una comunità un qualcuno ben venga ok però anche lì bisogna utilizzare l'ipnosi vera e professionale perché finché tu professionista che cerchi di aiutare gli alcolizzati tu parli alla coscienza non avrai granché di risultati devi parlare al subconscio al pilota automatico a quello che fa vedere alla persona gli effetti sintomi di chi è alcolizzato bisogna agire subcosciente e cambiare canale cambiare le immagini cambiare modo di vedersi e soltanto l'ipnosi può fare questo miracolo il miracolo della tua mente che la magia della tua mente non crederà a me non sono un santo non sono un guru sono soltanto professionista dell'ipnosi che ha tante attività in italia all'estero e fa anche l'imprenditore come mi definisco io all'ipno imprenditore ok pisa la mia fan page su facebook ipnosi o di proseguire dottor claudio saracino ha visto il mio sito internet www.impronologi associati punto com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesso il dottor claudio saracino e facer condividi con amici parenti perché può essere quel quid che può aiutare qualche caro amico conoscente che sta nell'alcol buttato lì che non vuole aiuto o magari c'è anche quell'alcolizzato che vuole l'aiuto ma non so cosa fare magari se sente la letra anche se abita da solo può veramente uscissare con l'ipnosi vera e professionale e visita anche nei profili instagram e twitter e benessere ipnosi soluzione di cesso il dottor claudio saracino e fisher condividi ripeto con tutti perché può essere quell'input quella molla che gli cambia un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino al prossimo video